Salve a tutte ragazze e bentornate sul mio canale oggi un video in cui mostro un pacchettino che mi è stato inviato e mi è stato inviato gentilmente da una carissima signora Susanna che è la proprietaria di un negozio che sta a Firenze ed è la Maison du Savon ed è un negozio che vende tutti i saponi biologici di Marsiglia e tantissime altre varietà di prodotti tra cui anche la cosmetica biologica quindi vi faccio vedere il pacchettino che mi è stato inviato circa una quindicina di giorni fa mi è stato inviato questo pacchettino qui come potete vedere è una scatolina porta oggetti dove all'interno, adesso vi faccio vedere come mi è stato inviato mamma mia c'è un profumo buonissimo adesso vi faccio vedere un po' le cosine che ci sono allora questo è un Deblian la Maison du Savon de Marseille questo è il Deblian con tutti i loro prodotti e questa è la scatolina con tutti i prodottini io a dir la verità ho già utilizzato un prodotto che è la saponetta al mojito la tengo in bagno nel portasapone che sto usando prettamente per il viso è molto fresca, delicata davvero adatta al mio tipo di pelle che è molto sensibile la saponetta al mojito era contenuta all'interno di questa carta di giornale dove è praticamente un giornale francese è molto tipico è legata da questo spago con questi ciondoli davvero carini davvero molto particolare, unico nel genere all'interno del pacchettino c'era questo messaggio con questa farfalla che dice una rosa non ha bisogno di predicare si limita a diffondere il proprio profumo Gandhi è bellissima questa frase e dietro c'è un dolce messaggio dalla carissima Susanna che dice spero che la selezione che ho pensato per te sia di tuo gradimento ti ricordo che se ci fossero persone interessate ai nostri prodotti siamo a disposizione tramite telefono e whatsapp oppure tramite facebook e instagram effettuiamo spedizioni in tutta Italia gratuite per ordini superiori a 50 euro oltre ai prodotti Maison de Savant Marseille nel nostro negozio abbiamo anche Alchemilla Tea Natura Neve Cosmetics Nouveau Milano Volga Cosmetics e tanti altri prodotti sempre nell'ambito della biocosmetica trattiamo inoltre le candele di soia, earth, home e wood witch un caro saluto Susanna per chi fosse interessata comunque nell'info box vi metto tutti i riferimenti alla pagina facebook alla pagina instagram e ai loro contatti per poterli contattare e acquistare presso di loro adesso io ringrazio ancora Susanna ringrazio per questo gentilissimo omaggio spero che questa sia una veramente la prima di una lunga collaborazione perché questi prodotti sono davvero ottimi ragazze ve li voglio far conoscere perché sono poco conosciuti e vi voglio far vedere questi prodotti che mi ha inviato allora vi ho detto che già sto utilizzando la saponetta al mojito adesso vi faccio vedere il resto delle cose che mi ha inviato allora mi ha inviato questa saponetta esfoliante ai petali di rosa con latte d'asino ha un profumo bellissimo infatti questa saponetta la utilizzerò sicuramente quando mi terminerò la saponetta al mojito che sto utilizzando per il mio viso ha un odore veramente delicato è veramente bellissimo un profumo unico adesso vi leggo dall'interno del catalogo le proprietà di questa saponetta scoprite la nostra collezione di saponi a castradolci a latte d'asina biologico arricchiti con olio di ergan biologico di fabbricazione artigianale la saponificazione è realizzata a freddo il nostro sapone duo asina argan offre benefici riparatori e protettivi per la vostra pelle tutti i nostri saponi sono una vera cura per la pelle detergono in profondità, idratano e rigenerano la vostra pelle uso strofinare il sapone sulla pelle umida con la parte esfoliante per beneficiare delle virtù della fragranza per scelta quindi utilizzare la parte al latte d'asina per idratare la vostra pelle in profondità infine risciacquare con acqua pulita e questa è stata la descrizione di questo prodotto che mi ha gentilmente inviato poi mi ha inviato la sempre della maison du savon marseille la saponetta all'olio d'oliva e argilla rossa sicuramente anche questa sarà adatta al viso per le pelli un po' impure infatti c'è l'argilla e quando l'aprirò sicuramente vi farò delle piccole foto le inserirò sulla mia pagina facebook, instagram e anche sul blog vi farò un post dedicato e da qui riesco a scorgere un profumo molto molto delicato ma tutte le saponette che di l'amazon du savon sono molto molto delicate quindi non vi dà fastidio quel profumo però fanno il loro dovere andando avanti con i prodottini mi hanno inviato il sapone di marsiglia all'olio d'oliva 72% olio d'oliva ovviamente odora tantissimo deve essere davvero ottimo e sono sicura che spezzandolo in vari pezzetti mi durerà tantissimo poi mi ha inviato una crema mani all'olio d'argan questa qui sicuramente la utilizzerò quando verrà l'inverno e quindi ne avrò sicuramente bisogno e poi mi ha inviato in due carinissime bustine queste due saponette piccoline una forma di cuore e una forma di rosa io già avevo due saponette simili che sono queste qui a forma di cuore che questa è alla lavanda e queste qui sono state il fermo posto di una mia carissima amica e questa mia amica ha utilizzato queste saponette come segnaposto al ristorante durante il suo ricevimento di matrimonio e quindi io grazie a lei ho conosciuto queste saponette veramente meravigliose e io sono ancora grata a Susanna per avermi inviato gentilmente tutti questi prodotti da provare e niente ragazzi questa era la mia scatolina con tutti i prodotti qui c'è un bigliettino da visita adesso ve lo faccio vedere questo era il bigliettino come sempre come vi ho detto prima vi lascerò tutte le informazioni giù nell'info box se vi interessa qualche virtù qualche beneficio per quanto riguarda i prodotti che rivendono alla Maison du Zavon de Marseille di Firenze fatemelo sapere in un commento che io vi risponderò e vi sarò d'aiuto sicuramente per aiutarvi a scegliere qualche prodotto che vi interessa io con questo vi lascio spero che questo video sia stato di vostro gradimento ringrazio ancora a Susanna e la Maison du Zavon de Marseille di Firenze mando davvero un grandissimo bacio a Susanna e spero di rivederci in un prossimo video con tanti altri prodottini da consigliarvi mi raccomando ricordatevi di iscrivervi al mio canale attivare la campanella lasciare un like e un commentino qui sotto noi ci vediamo al prossimo video ciao bellezze ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie.